Ciao a tutti, con questo video abbiamo voluto ringraziare tutti coloro, volontari, genitori, giocatori, eccetera, che hanno partecipato e reso davvero bello il nostro ultimo torneo. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che si sono deparati, alle società che hanno partecipato e a tutti i giocatori che sono stati semplicemente meravigliosi. Colgo infine l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua. Grazie a tutti. 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 Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!